Look out! Andiamo! Iniziamo con 5 esercizi. Allora, prendiamo elastico. Questa è la versione più evoluta, eh? Un peso alto e facciamo squat e su. Squat e su. Naturalmente, versione primi passi, posso mettere un elastico leggero e senza peso. E vado su e magari non scendo fino a qua, ma rimango qui. Secondo esercizio, braccia. Allora, primi passi, molto easy, la versione quadrupedia. Ok? E faccio questo. Quindi allardo. Allargo bene il... Invece, versione un po' più evoluta, posso. No, scusate. Scendo e apro, no? Apro e scendo. Versione ancora più evoluta, apro e scendo. Perso, addominali. Peso. Versione meno evoluta senza peso, versione evoluta con il peso. E da qui. Scendo e su. Allungo e su. Quella meno evoluta, appoggio le gambe. Ok? Poi, quarto esercizio. Uno, due, tre, quattro. Vado in plank. Uno, due, tre, quattro. Torno. Versione semplice, gamba e al ginocchio. Quindi senza il mountain climber. Ok? Altro esercizio. Ultimo. Prendo i pesi. Meno evoluta senza pesi. Piego. Tac, 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 tac. Ci siamo? Andiamo? Allora. Vai. Perfetto, l'abbiamo fatti tutti. Iniziamo la nostra, il nostro primo esercizio. Io faccio la versione un pochino più evoluta. Uno, due, tre, quattro. Vai e tieni su. Vai e tieni su. Vai e tieni su. Vai e vai su. Forza. e vai su. Schiena quando vai giù. Attenzione alle ginocchia. Tieni forte questi elastici. Vai. Respira. Vai. Vai. Su. Non mollare. Non mollare. Forza. Tieni il ritmo. Ok. Adesso elastico. Con il flank. Allora. Apro. Giù. E su. Vai. Mai. E su. Chi non ce la fa, fa questo. Ok? Questo. Invece per i primi passi vado proprio in quadrupedia. Mai. E forza. Forza. E apro. Apro. Vai. E lunga la schiena. Forti gli addominali. Forza. Vai. 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 Oh, yes. Vai. Vai. Allunga. 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 e sta. Per chi è troppo appoggia i piedi. E fa questo. Invece chi se la sente. Allunga. E sta. Allunga. E sta. Vai. Respira. Vai. Respira. Forza. Forza. Non mollare. Su. Oh, yes. Ok. Hai un po' di cardio? 1, 2, 3, 4, e 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 1, 2, 3, 4, torni. Fai. Più lento se non ce la fai. E una gamba dopo l'altra. Se è troppo in punta, in pubblico. Vai. 2, 3, 4, e. Su. 1, 2, 3, 4, e. Vai. 2, 3, 4, e. 1, 2, 3, 4, e. Vai. 2, 3, 4, e. Vai. Su, 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 su. Forza. Facciamo circulare il quadri. Sangue. Forza, 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 forza. Su, uno, due, tre, quattro e vai. Uno, due, tre, quattro e uno, due, tre. Yes. Vai. Vai. Su, su. Gamme leggermente. Piegate, ma proprio leggermente. Vai. Fermo le gambe. Fermo il bacino. Vai. Discese laterali. Anche senza peso, pesi piccoli. Vai. Vai. Su, su. Vai, 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 vai. Su, 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 su. Vai, vai, vai. Su, 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 su. Vai, 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 vai. Su, 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 su. Su, su, su. Forza. Forza. Vai. Vai, negli. Vai. Vai. Gai. Oh, yes. Grande. Andi. Ok. Vai. I nostri cinque minuti di allungamento. Respiro. E allungo. E da qui. Allungo. E scendo. 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 E. Resta. 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 Rilassa tutto. Vai al centro. Vai. E ti slotoli. A sinistra. Ti allunghi. Vai. Scorri. 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 E. Rilassa. 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 E. Al centro. E. Resta. Rilassa tutto. Rilassa. E. Piega le ginocchia. Piega le ginocchia. E adesso. Piano piano. Prendi le caviglie. Inserisci i gomiti nell'incavo delle ginocchia. E. Resta. Apri. Allunga la schiena. Allunga la schiena. Allunga la schiena. E. Torni. E. Resta. 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 E adesso. Un piede e l'altro. Resta. Stai in plank. Stai in plank. Allunga. Chi non ce la fa tantissimo resistere appoggia le ginocchia. Vai. Stringi i glutei. Tieni forte gli addominali. E. Torna indietro. Vai. Cane e testa in giù. Vai. E torna in plank. Vai. Cane e testa in giù. E torna in plank. Stringi i glutei. Tieni forte gli addominali. Vai. E. Ultima volta. Stai. 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 E. Vai. Quadrupedia. Indespira. Ed espira. Indespira. Ed espira. Vai. E. Allunga destra. Allunga mano sinistra. Resta. 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 Tira forte. Allunga bene. E torni. E l'altra gamba sinistra. Gamba destra. Braccio. Allunga. 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 Stai. E. Abbassi il sedere sui glutei. Abassi il sedere sui glutei. E. Vai. E. Tieni. Porta il petto. E torni. Porta il petto. E torni. E da qui. Vai su. E. Giù le spalle. Resta. Resta. Giù le spalle. E. Torna. E. Vai. Cane a testa in giù. Adesso. Porti la gamba destra. Ti allunghi. Ti allunghi. Ti allunghi. Appoggi il ginocchio. Provi a prendere. Se ce la fai. Tiri il tallone verso il gluteo. Se non ce la fai. Resti in questa posizione. E ti allunghi. Ok. Da qui. Allunga. Stai. Respira. Butta fuori l'aria. Butta fuori l'aria. Butta fuori l'aria. Stai. Vai. Torni. E. Metti la sinistra avanti. Vai. Allunga. Allunga bene la schiena. E. Gira. Ruota. Stai. Stai. E. Appoggi. Appoggi. Prendi la punta. Chi ce la fa. Chi non ce la fa. Lascia e rimane. Con il braccio teso verso il piede. Vai. Allunghi. Allunghi bene. E. Butta fuori l'aria. Inspira e respira. Butta fuori l'aria. E. Torni. E. Inspiri. Vai. E. Torni. Chi ce la fa. Chi non ce la fa. Scorre leggermente. E. Torna. Vai. Inspira. E. Torna. Ultimo. E. Adesso leggermente piegando le ginocchia. Ti srotoli. Lenta. Lenta. Prendi i glutei. Vai. Vai. Allungati. Ok. Ciao ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.